Cambiare tante cose, tra l'altro tornare qui e vedere tutta questa neve fa tornare alla mente ancora più forte quel ricordo. E' cambiato tanto, non saprei dirti se sono passati troppo velocemente o sembra un'eternità, ma siamo stati tutti quanti stravolti da questa tragedia, a livello morale una cosa indescrivibile. Cerchiamo di andare avanti, siamo felici che dopo due anni lo Stato ci inizi a stare vicino, abbia capito che comunque siamo delle persone con delle difficoltà enormi e abbiamo bisogno di una tutela e di una spalla su cui far forza e appoggiarci per andare avanti. Un ricordo di quei giorni sicuramente è inutile dire comunque che bisognava prestare più attenzione a questa situazione. Sì, bisognava fare veramente poco per salvare 40 persone. Adesso resta la fiducia nell'operato della magistratura comunque. Sì, resta la fiducia, abbiamo piena fiducia nell'operato dei magistrati e speriamo che questa sia una vicenda che si concluda in tempi stretti perché uno dei timori che abbiamo è quello che il tutto vada in prescrizione e quindi ci tolgono la giustizia che è l'unica cosa che ci rimane ad ora. Dopo due anni di tornare qua è triste, fa ancora più dolore vedere pure qua la neve e iniziare a rendere conto di che cos'era due anni fa qui. Hai chiesto ai due ministri, ai premier Salvini e Di Maio comunque di fare giustizia perché è comunque di trovare quella causa che comunque ha scatenato tutto questo e trovare giustizia perché comunque almeno portate qualcosa dentro di importante. Sì, oggi non è una giornata per criticare ma è solamente per chiedere giustizia e per ricordare i nostri cari. Che cosa è stata per voi la presenza di questi due personaggi? Diciamo che ci hanno teso la mano in senso di vicinanza. Invece le indagini su come sta andando, tu che cosa hai da dire e sicuramente ci saranno altre novità. Io al momento posso dire che ho tanta rabbia e tanta amarezza, andiamo avanti e vediamo che cosa esce. Io come tutti gli altri vogliamo la giustizia su tutto.